Ciao! Oggi non vi abbiamo fatto tanti video perché è stata una giornata veramente bella, bella piena. Sono finiti adesso i tre giorni di luce. È stato veramente un percorso molto pieno, molto emozionante. Per me è stato veramente bello vedere queste tre bellissime anime che si trasformavano. Ora quello che posso dirvi è semplicemente che per me è stata veramente una benedizione vedere con quanta facilità sono riusciti a liberarsi di tantissime zavorre, di tantissimi blocchi, di tantissime paure e ho visto che il loro viso cambiava e quello la dice lunga. Ve li faccio salutare! Ciao! 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 Sono sopravvissuti visto alle tre giornate, cosa che non ci credevate, lo so, lo so, che non ci credetevate, ma sono qui. Com'è andata ragazzi? Benissimo! Bravi, bravi, che così almeno vi vedono. Dite qualcosa in più dai, sennò sembra farmi solo io. Lo so che siete storditi dall'ultima meditazione, ma secondo me ce la fate a dire ancora qualcosa. Assolutamente, è stato stupendo, lo consigliamo a tutti, quindi bocca al lupo ai prossimi prescelti. Un bellissimo percorso, un percorso di crescita e di un viaggio dentro se stessi e liberazione del proprio io. Bello, bello e tanti auguri ai prossimi, ai prossimi prescelti. Grazie. E la luce si illumina, non solo dal sole, ma da dentro. Bene, allora vi salutiamo qui da Malaga, Benalmadena Malaga, e vi auguriamo una bellissima serata. Noi adesso ce l'andiamo a spassare perché andiamo a mangiare, a bere, a fare tutte quelle cose che non abbiamo fatto in questi giorni. Ciao ciao! A presto! Grazie a tutti!